Lois, ma perché devo vedere un film tipicamente da donna? Perché mi avevi promesso di vedere con me Pianoforte d'autunno e poi sei in debito con me per avermi messo in imbarazzo di fronte a Sandra Oh. Oh mio Dio, Sandra Oh! Sei fantastica in Grace Anatomy. Grazie. Noi due ti vediamo in molti film. Penso a te mentre mi diverto a fare sesso con mia moglie. Per ringraziarti ecco un dollaro. Sono tanti per loro.